ciao a tutti benvenuti a un'altra puntata del nostro how to play sui bass riff allora oggi come avete sentito vi suonerò un riff in slap questo riff premetto è tratto da dal mio metodo il secondo advanced slap bass groove lo potete trovare in versione ebook oppure anche in versione cartacea ve la faccio vedere bellissimo in versione cartacea racchiude advanced slap bass groove dove è contenuto questo riff che vi suono oggi e poi c'è anche easy slap che è un po più semplice ma comunque anch'esso molto interessante allora veniamo subito al allora la partenza dovete suonare un re e un mi in m rom con il pollice ok corda di la tasto 5 poi cadiamo a vuoto sul mi facciamo un mi una nota morta e un altro mi ok andando avanti ok questo blocco qua parte con due note morte una fatta col pollice sulla corda di la e una con lo strappato sulla corda di sol poi facciamo un m rom re mi e mettiamo un altra nota morta ok concludiamo il pezzettino con uno strappato re mi acuti uscirà così se avete difficoltà cercate di prendere brevi pezzi e lavorare su quelli poi andiamo avanti questo uguale all'inizio concludiamo la battuta con lo strappato sul re re a vuoto e poi un m rom sol la poi di nuovo nota morta la vuoto re mi in m rom il blocchetto esce fuori così la partenza è in levare quindi un due tre un aumentare la velocità a piacere buon divertimento un'esercienza 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 Grazie a tutti